In prima posizione troviamo, a parte gli scherzi, ma quanto è difficile fare una classifica dei migliori chiteristi di sempre? Io vorrei farne una dei chiteristi italiani che suonano un electric, che mi piacciono parecchio o che soprattutto hanno composto musica per me di grande valore. Decennio 1970, e apriamo con Ivan Graziani e Franco Mussi, dallo storico chiterrista della PFM, arrivano gli anni 80. In questa decade il primo chiterrista è Gigo Renzulli dei Lit Fib, l'altro chiterrista imprescindibile Pino Daniele. Passiamo agli anni 90, con il suo disco Hit.pop Alex Brittis si guadagna tanto spazio. L'altro chiterrista è Livio Magnini, prima fonico, poi chiterrista dei Blue Vertigo. Dal 2000 al 2010 il primo è Jonathan Mirai, il secondo chiterrista è Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion e per finire dal 2010 ed oggi il primo è Stefano Pilia, il secondo è Alessandro Stefana. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!